bad boys, bad boys, bad boys bad boys uè gragnallo come è andato ieri con la squinzia? lascia stare va, è già bello che non gli ha dato una compilation di schiaffazze e fa la metallara uè raga, tutto rego? uè sono stanco di smerigliarmi il garbarozzo di Panozzi in questo buco uè andiamo in disco, si può fare garbora? uè ma cosa si fanno fuori zona i metallari? uè gemelle Kessler, cosa fate fuori confine? guardate che prendete la lungina c'è poco da farlo spiritoso stiamo riunendo le bande dark, punk, skin, rockabilly sono tutti d'accordo e anche tutti gli altri mancate solo voi paninari ci state? ci stiamo dai, l'uomo è ora sabato 5 marzo, aldruso, ranca, provincia di Bergamo, festa anni 80 ora però mettiamo un po' di musica vera cosa vuoi banale? no, c'è di meglio come faccio a dirti vuoi ballar con me? se non riesco a dirti voglio star con te ma come faccio a dirti vuoi ballar con me? se non riesco a dirti che ti amo già